Parliamo un po' del Festival di Sanremo. Che cos'è? È una gara italiana che si tiene a Sanremo, al Teatro Ariston, durante cui 25 artisti italiani promuovono le loro nuove canzoni. Le canzoni vengono votate dal pubblico, cioè la gente, usando... cioè si chiama il televoto, cioè si manda un sms per votare, e dalla stampa, cioè giornalisti accreditati dalla tv, dalla radio, dalla carta stampata, dal web. Quattro delle serate, ogni artista suona una canzone sola e un'altra serata fanno le cover per cambiare. Quest'anno ha vinto la canzone Brividi di Blanco e Mahmood, cioè una canzone bellissima.